e buonasera ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video ragazzi oggi proviamo un video davvero davvero bello il video ragazzi come avete visto anche dal titolo della miniatura parla molto chiaro e stiamo parlando ragazzi della nuova arma che è uscita su fortnite il nuovo cecchino va bene che hanno messo già troppi cecchini e secondo me questa cosa è sbagliata però ragazzi avete visto questo cecchino quanto è forte ma è proprio il fatto che le persone hanno modo di vedere dove andrà a finire la storm la tempesta questo praticamente ti dà un vantaggio allucinante perché se io già so che comunque devo andare esempio a nord ovest perché nord ovest si chiuderà la prossima safe io ho un vantaggio allucinante perché io già so che devo andare la cominciati subito a costruirmi un fortino in metallo e il gioco è fatto ragazzi questo cecchino per la world cup per i tornei se mai lo metteranno appunto nei tornei è allucinante va preso e ve lo dimostrerò ragazzi in questo video quindi vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace a questo video di lasciare un bel commento perché si ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate trovate il link del mio merchandising qui sotto in descrizione e saranno disponibili fino al 28 di questo mese quindi avete tempo altri giorni poi finito quindi ragazzi ora non perdiamoci in chiacchia ricordatevi questo video e buona visione salve grazia figlio di benvenuti ragazzi su questo nuovo video che finirà su youtube perché lo vincerò al 100% e inoltre troverò anche il cecchino benvenuti ragazzi benvenuti 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 a tutti quanti questa partita è vinta al 100% parola di francesco amadori posso ragazzi no c'è un hs con rivolto a mai martin amato quando dici le cose le fai e per forza ragazzi per forza cioè le cazzi le cose si dicono e si fanno punto basta salve la bella lavanderina la bella lavanderina la give you nothing my friend nothing allora questo lo buttiamo perfetto sting bomb assolutamente sì dovrei portare il medikit ma onestamente no grazia andiamo full yolo ragazzi oggi full yolo hello my friend io uso la skin galaxy perché sono bravo mamma mia qua ragazzi livelli di pro playing incredibili come on my friend come on my friend slice on zero ping dg man si è fatto pure male eccolo 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 no ragazzi ok concentrazione ragazzi se mi push non giuro che bestemmia guarda lasciatemi in pace due minuti devo rifullarmi un secondo ma se fa quello che penso io è finita se fa quello che penso io in war cup va portato per forza cioè intorno va portato obbligatoriamente anche se non viene usato come cecchino ma ma vediamo ma lo apriamo cioè io sono qua e mi puoi vedere la safe attuale e la safe dopo dovrebbe prendere shifty quindi madonna santissima trinità che è sta roba niente niente che mi ha sparato what do you do my friend i don't understand quindi tecnicamente la safe me la fa vedere però vedo un cerchio più piccolo quindi quello più piccolo è per forza la safe dopo ancora e c'è pure la freccettina viola che mi dice dove devo andare giusto sud no vabbè ragazzi questa cosa è veramente cioè cioè non ci posso credere ragazzi una shotta in testa una shotta allora Grazie. Hold on, my friend. No, 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 one second, my friend, okay? Ok. Allora, carichiamo il nostro... Oh. Ma siete seri? Oh! Un attimo, vai io! Santo Dio! Questa... No! Questa è la... Pinga di meno di me, pinga meno di me, pinga meno di me. Pinga meno di me questa. Pinga meno di me questo, ragazzi. Mi ha riprasato il ruolo in una maniera allucinante. Pinga uno, sto tizio. Io non pinga proprio, anzi. Ma il no scope come lo fa, sto cecchino? Lo fa bene? Vediamo. Vediamo un attimo il no scope. No, aspetta, come faccio a provarlo? Facciamo così. No, non è dritto, è... Sorto. No, non è dritto, è dritto, è dritto, è dritto, è dritto. Dov'è? Dov'è? L'ho aiutato? L'ho aiutato una volta? Sì, ma un attimo, ragazzi. Una alla volta, tranquilli. Ragazzi, ma sono a satanati questi player. Oh, un attimo. Santo Dio. Vedo che sono desiderata, però... One moment, my friend, ok? What? Oh, un attimo. Oh, un attimo. ragazzi mi uccidono io lo so già sono one shot cioè non ce la posso fare mi serve la vita let's go my friend let's go devo movermi devo movermi 202 in testa ragazzi è buono cioè one shot let's go vuoi assaggiare vuoi assaggiare cecchino nuovo ragazzi vuoi assaggiare banane è fortissimo raga è fortissimo sta cosa ciao 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 ciao